CD è questo, ed è 416,28 metri. BC è questo, che è 320,38 metri. AD è questo, e 300,04 metri. E poi abbiamo α, che è 56 gradi, 34 primi, 12 secondi, e quindi trasformiamo velocemente in sessi decimali, facendo 56 gradi più 34 primi diviso 60 primi, quindi trasformiamo i primi in gradi, e poi più 12 secondi, fratto 3600 secondi, e trasformiamo i secondi in gradi. Lo che risulterà sarà l'angolo in forma sessa decimale. Ok, qui dobbiamo risolvere il trapezio, e determinarne la superficie. Potremmo partire da un fantomatico lato AB, che non conosco, ma mettiamolo orizzontale. Da questo possiamo ricavare intanto l'allineamento con l'angolo α, se qua mettiamo A e qua mettiamo B, l'allineamento α lo posso ricavare. Su questo allineamento posso andare a riportare il mio lato AD, e qui, siccome c'è una scala, magari posso dire 50 metri uguale a un centimetro, quindi 100 metri uguale a un centimetro sarebbe un altro centimetro. Va bene, e riesco a ricavare la posizione di D. Poi so che, essendo un trapezio, la base è comunque parallela all'altra base. La base superiore può essere inferiore, cioè può essere minore o maggiore, a seconda di come è il valore degli AB, che non conosciamo attualmente, però di C lo conosciamo, quindi possiamo andare a individuare la posizione anche di C, a questo punto, 116, e poi ecco il problema è questo. Infatti è il problema che ci fa pensare ad una doppia soluzione, perché potrebbe essere che il lato 320 sia così, oppure sia così. Quindi qua non lo sappiamo, possiamo prevedere e pensare che possa essere così, però non abbiamo la certezza che lo sia. Però diciamo che cominciamo già a farci delle domande, caspita, forse potrebbe essere che questo problema mi porti al discorso della doppia soluzione. Infatti vedrete che non ci andremo molto distanti. Facciamo la solita suddivisione, tracciando da D la parallela al lato CB, dividiamo il trapezio in un triangolo, triangolo 1, e in un parallelogramma, vedete qua, 2, allora abbiamo un triangolo e un parallelogramma, sappiamo che i lati sono uguali, quindi questo lato è uguale a questo, essendo all'interno di un parallelogramma, quindi anche questo sarà 416,28 metri, questo qua verde, e questo lato è uguale a questo, quindi anche questo qua sarà 320,38 metri. Allora, a questo punto concentriamoci su questo triangolo. Cosa conosco di questo triangolo? Beh, conosco questo lato, conosco questo angolo, e chiaramente per quello che ho detto prima conosco anche questo lato. E quindi io sono in grado di risolvere questo triangolo, perché ho tre elementi di cui due lati, questo triangolo è risolvibile, triangolo 1 risolvibile. Cerchiamo di capire quali sono inizialmente i dati che mi mancano, perché, mi ripeto, il nostro obiettivo è quello di risolvere il trapezio e determinarne l'area. Per cui, io conosco tre lati di questo trapezio, devo andare a individuare questo lato, lato B, e gli angoli beta, gamma e delta. Vabbè, delta lo posso ricavare subito, perché delta, come sapete, è uguale a 180 gradi meno alfa, cioè se io allungo il lato AD, questo angolo è alfa, per cui delta sarà l'angolo piatto meno alfa, quindi lo ricavo velocemente. Quindi delta è già determinato. I problemi per determinare delta non ce ne sono. quindi le incognite sono beta, gamma e il lato AB. in più poi dovremmo determinare la superficie. Ecco, quindi il nostro obiettivo è ricavare questi elementi, in particolare beta, questo angolo, che sarà uguale a questo. Quindi all'interno di questo triangolo, questo beta lo posso ricavare. scrivo sen di beta fratto il lato opposto di è uguale a sen di alfa fratto di T il lato opposto. è uguale a sen di alfa fratto di T per AD. E quindi beta è uguale all'arc sen di quella roba lì. sen di alfa fratto di T per AD. Allora, questo beta, questo beta che richiaverai in questo modo, è in realtà il beta 1. Beta 1 perché il problema di determinare gli angoli con il teorema dei seni è quello della doppia soluzione. E quindi, a fronte di un beta 1, che è quello che mi arriva dalla calcolatrice, devo verificare che beta 2 pari a 180 gradi meno beta 1 non sia accettabile. Perché se è accettabile anche questo beta 2, ecco che ho la doppia soluzione, e quindi il mio problema diventa doppio. Cioè, devo risolvere due problemi, non uno. Due. Uno con beta 1 e l'altro con beta 2. O vediamo quanto vale questo beta 2. Allora, dai calcoli che farete, beta 1 risulterà questo valore qua, questo. 51 gradi, di virgola 40 e 51. La beta 2 sarebbe 180 meno beta 1, cioè sarebbe questo valore. Beta 2. Beta 2 risulterebbe quel valore lì. La domanda è è accettabile questo beta 2? Sì o no? perché se è accettabile io devo sdoppiare il mio problema. Se non è accettabile io ho terminato qui con beta 2 e quindi vado avanti esclusivamente con beta 1. È fondamentale capire se quel beta 2 lì lo posso accettare oppure no. Allora, per vedere se lo posso accettare oppure no, siccome beta 2 è quell'angolo 2 best è quell'angolo che si viene a formare qui in T, ok? e vedete che è un angolo maggiore di 90 gradi. Se io sommassi alfa con beta 2 e quindi alfa che è 56 virgola e quello che sarà risulterà da questo calcolo sommassi 56 virgola più 128 virgola supero i 180 gradi. Cioè, se io sommo questo più questo supero i 180 gradi è possibile questo? Sì o no? No che non è possibile. Perché non è possibile? Perché questi due angoli fanno parte di questo triangolo e la somma degli angoli interni di questo triangolo deve essere uguale a 180. Non può essere che questo più questo mi dia un valore superiore a 180 gradi. Perché se è così vuol dire che non esiste l'altro angolo vuol dire che non ci siamo. Quindi questo beta 2 scritto così con questo valore non può essere accettato. quindi beta 2 non può essere accettato. Quindi non viene accettato l'unico beta che rimane è beta 1 che lo chiamo beta perché è l'unico valore che può essere accettato. Mentre beta 2 proprio perché ha questo valore e sommato insieme all'altro angolo alfa supererebbe i 180 gradi cosa impossibile all'interno di quel triangolo per cui quel valore non è accettabile è inaccettabile. È un vantaggio questo perché qua vuol dire che a questo punto io invece di risolverne due di problemi ne risolvo uno solo. È chiaro? Quindi è un grosso vantaggio in questo caso non aver un beta 2 che è possibile soluzione. Ok? Però bisogna verificarlo. Bisogna verificare che effettivamente beta 2 non debba essere considerato. Quindi qua l'abbiamo dimostrato per cui noi siamo tranquilli andiamo esclusivamente con l'unico beta che abbiamo ricavato. Questo quello che ricaviamo da questa formulazione. Questo è il risultato di beta. Bene. Quindi cosa significa? Significa che quel beta che salta fuori dalla calcolatrice è quello giusto è il beta 1 e quello giusto è il beta ed è c'è e c'è solo quella come soluzione non c'è altro e quel beta è proprio questo beta quello del trapezio e dell'angolo del trapezio per cui ho già trovato un altro ho trovato un elemento del mio trapezio un altro angolo noto beta posso ricavare anche gamma perché gamma è uguale a 180 gradi meno beta cioè se io prolungassi questo vedete questo angolo sarebbe beta perché queste due sono parallelità di loro ok e quindi questo angolo è uguale a questo cioè questo è beta per cui se faccio 180 che è l'angolo piatto meno beta trovo gamma ok quindi una volta che conosco beta posso ricavare gamma bene quindi a questo punto gli angoli alfa beta gamma e delta li ho tutti mi manca come ultima incognita il lato AB devo trovare AB AB che posso vedere come posso scrivere come somma di AT più TB TB lo conosco perché quel 416 28 TB lo conosco mi manca AT per determinare AB ma AT lo posso ricavare sempre dal triangolo 1 ok determino prima delta 1 delta 1 sarà uguale a 180 che è la somma degli angoli interni meno meno alfa più beta se faccio 180 meno alfa più beta trovo delta 1 trovo quell'angolo qui questo ok questo mi serve perché poi adesso mi aiuterà a determinare AT AT lo posso ricavare con il teorema dei seni AT fratto il sen di delta 1 è uguale di T fratto seno dell'angolo opposto alfa quindi ricavo che AT è uguale a di T fratto il seno di alfa per il seno di delta delta 1 ok potevo ricavare lo stesso AT con Carnot potevo scrivere AT è uguale alla radice quindi è un altro modo per ricavare AT i due lati che convergono sono AD e DT quindi AD al quadrato più DT al quadrato meno il doppio prodotto di questi due lati AD per DT per il coseno dell'angolo compreso che è delta 1 ok posso ricavare AT in questo modo o in questo modo AT noto AT quindi noto AT in questo modo in questo lo sostituisco qui e trovo AB che è l'ultimo elemento che mi mancava di quel trapezio e io il trapezio a questo punto l'ho risolto l'unica cosa che mi manca è l'area la superficie la superficie che noi sappiamo essere S S è uguale a AB base maggiore più base minore DC fratto 2 per altezza ok AB l'abbiamo appena determinato DC l'avevo come come dato del problema mi manca H l'ultima cosa che mi manca è questa che è questa qua la trovo qui la misuro perpendicolarmente a questa quindi questo è H lo faccio qua magari in parte guardate ridisegno qua e ridisegno il trapezio questo è A questo è B questo è C questo è D l'altezza è questa misurata perpendicolarmente quindi significa che questo tutto qua è un triangolo rettangolo triangolo rettangolo il quale conosco questo lato e questo angolo ok quindi posso ricavare che H è uguale ad AD per ipotenusa un cateto uguale a ipotenusa per il seno dell'angolo opposto che è questo qua quindi nota H lo inserisco qui dentro e ho risolto il mio problema e ho finito il mio problema adesso vi faccio vedere i risultati vedete qua beta 1 che era quello che vi dicevo ho saltato fuori questo valore beta 1 beta 1 ha ricavato beta 2 ha verificato che la soluzione non è accettabile in quanto alfa più beta 2 è maggiore di 180 gradi quindi non può essere accettabile qui andiamo avanti con beta che è 51 quindi troviamo gamma facendo 180 meno beta e delta 180 meno alfa questi qua delta l'abbiamo fatto subito gamma l'abbiamo fatto una volta che abbiamo determinato beta e ricaviamo questi valori a questo punto si tratta di andare a determinare AT AT e qui vedete ha utilizzato il teorema dei seni qua vedete ha fatto B quindi B che è DT come abbiamo fatto noi questo qua DT fratto sen di alfa vedete DT questo è DT DT fratto sen che è sempre B chiaramente era stato chiamato B DT fratto sen alfa per seno noi abbiamo scritto sen di delta 1 sen di delta 1 vi ricordo che abbiamo trovato anche sul libro questa cosa qua il seno di alfa più beta è uguale al seno di delta l'abbiamo visto l'abbiamo visto più volte quindi se volete provare non c'è nessun problema il seno di questo angolo di alfa più beta 1 è uguale al seno di delta 1 e alla fine otterrete lo stesso valore AT AT noto AT sommate AC che è TB così come abbiamo scritto qua AT più TB e trovate il valore del lato AB cioè il quale è stato chiamato con A quindi a questo punto il trapezio era risolto bisogna determinare l'altezza per poi utilizzare la formula dell'area base maggiore più base minore per altezza diviso 2 ecco che mancava solo l'altezza l'altezza è stata determinata così come abbiamo fatto vedete D che è il nostro AD io ho scritto AD per il seno di alfa D per seno di alfa trova l'altezza la inserisce all'interno della formula e determina il valore della superficie ok ecco state attenti perché vedete che non coincide con il risultato del problema quindi questo qua è sbagliato vedete che risulta 149.954 ok quindi fate i vostri conti e vedrete che il risultato sarà ok